buongiorno amici questa mattina ho acquistato questi due nuovi gig di casa jatsui sono i jatsui assault ho preso due grammature diverse uno per lo shore da 60 grammi e uno a 30 grammi andiamo a vedere prima quello 30 grammi per lo spinning artificiali che a parer mio sono fatti veramente veramente bene colorazioni meravigliose questo qua è quello da 30 grammi per lo spinning già vedete colorazione simile al pesce foraggio all'acciughina artificiale con una forma veramente veramente interessante riflessi molto 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 accesi molto belli guardate adesso a vedere guardate la sensazione artificiale con dei riflessi meraviglioso riflessi meravigliosi doppio assist